Parallele asimmetriche per la bianco-verde, terziari, Sofia Presonin, Simone invece sta per partire alle parallele mentre alla sbarra attende il via dei giudici Quattrini Giacomo Pazzanetti E allora troviamo la giornata della situazione generale della femminile situazione come vi ho detto abbastanza combattuta perché le prime due posizioni sul podio sono molto vicine in terza posizione il corpo libero della generale Stim di Padova partenza in salita per questa società sia la prima gara sia questa gara perché la Travolta non è andata proprio al meglio Io non sto guardando, come va? Come va il caduto? Poi ce n'iamo con quattro mangiare Grazie a tutti In quinta posizione la società Casellina Senta posizione la cooperazione Perfetto Grazie 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 Grazie